Buonasera a tutti, siamo qui con Gianluca Giovergia, uomo partita in Trinità, Movicentalo 4-2, una tua tripleta ha deciso questa partita, ti chiedo le emozioni e sensazioni dopo questo debutto stagionale? Sicuramente sapevamo che loro non erano una squadra facile, perché l'anno scorso abbiamo tribulato contro di loro, siamo scesi in campo con la giusta determinazione, siamo andati sotto ma non ci siamo arresi e siamo riusciti a ribaltarla e a fare gol. Era questo il debutto che volete fare in casa? Sicuramente questo era il miglior debutto che si potesse fare in casa, soprattutto perché era importantissimo portarla a casa e cominciare bene il campionato. Ti chiedo inizi con una tripleta questo campionato, punti alla Scalapadola di questa stagione? Sicuro non mi tirerò indietro, però l'obiettivo principale è solo di squadra e di provare a andare più avanti possibile, provando a battagliare contro tutti. Per questa tripleta, per questi gol hai una dedica particolare? La dedico a tutti i miei compagni che ci siamo impegnati, dal 19 agosto siamo qua, a lavorare e oggi l'ho portata a casa i primi frutti. Ti chiedo solamente più questo, è stata una vera e propria battaglia in campo dal primo al novantesimo minuto, ti chiedo cosa ha avuto il Trinità in più per vincere questa partita? Sicuramente a noi ha fatto comodo l'espulsione loro a fine primo tempo, perché con un uomo in più siamo riusciti a giocare meglio, però a mio parere siamo andati più forti dal primo all'ultimo minuto. Grazie mille, complimenti ancora. Grazie a voi.